La morte di 5 operai travolti da un treno a Brandizzo in Piemonte riporta all'attualità un tema purtroppo annoso, la sicurezza sul lavoro. Sebbene gli incidenti in provincia di Lecco siano in caro e da gennaio oggi non si sia verificata alcuna morte bianca, non per questo bisogna dunque abbassare l'attenzione. Secondo uno studio elaborato dalla Will Dell'Ario sulla base di dati INAIL, gli infortuni denunciati nei primi sei mesi del 2023 sono stati 1.832, quasi 700 in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con una flessione del 27%, un valore che rende Lecco una delle province più virtuose in Lombardia e nessuno degli incidenti denunciati, come detto, ha provocato una morte. Calano anche le denunce di malattie professionali scese da 62 a 56, anche in questo caso Lecco è una delle tre province nelle quali si registra questa variazione positiva. A fronte di questo quadro l'appello dei sindacati è però mantenere sempre alta l'attenzione. Bisogna uscire dal paradigma che considera la sicurezza un costo, dichiara Dario Sposito della Will Dell'Ario, per entrare in quello che la prevede come un momento vincolante per la certificazione delle imprese e che prevede premialità nella concessione di appalti. Questo è il passo da fare, come quello dell'instaurazione del reato di omicidio sul lavoro per chi non rispetta le regole. La sicurezza sul lavoro, aggiunge Lecchese Tino Magni, presidente della commissione di indagini del Senato sulle condizioni di lavoro, non può essere considerata un costo. Da troppo tempo il lavoro è diventato una merce, bisogna invertire la rotta e rimettere al centro le persone. Non è accettabile fare solo la conta dei morti, bisogna affrontare il tema della precarietà dei subalpalti e le privatizzazioni, conclude Magni. hanno portato un peggioramento delle condizioni di lavoratrici e lavoratori.